Bentornati per questo incontro valevole per il titolo del torneo del faro, in campo Roma Nuoto e 0-9, Roma Nuoto con calottina bianca e rossa e 0-9 con calottina blu e rossa, non si vede granché. In campo i ragazzi di Manzo schierati e pronti per lo scatto, l'arbitro fischia all'inizio, finale primo e secondo posto, sarà composta da 4 tempi da 7 minuti. Battistelli conquista palla e porta la palla al centro per Massi, Massi per Distilli che subisce palla. L'apertura sulla destra per Diego Caracciolo che la dà a Massi e Massi con un splendido splendido pallonetto, la metto proprio dove è lì dove il portiere non è in grado di arrivare. Compiaciuto, compiaciuto Massimo per la splendida azione. Si riparte, batte la formazione della 0-9, palla a 0-11, lasciato libero il numero 4 e giustamente l'unica cosa da fare Caracciolo di Franca Rigore. Numero 7, numero 7 si mette sulla posizione del Benillo Rosso, Manuel non riesce ad arrivarci. E 1-1. Partite velocissimo queste squadre, al momento che entrambe le formazioni schierano i ragazzi più titolati, carta al centro, cerca di tenere la palla ma gli ha fischiato la palla sotto. L'undici si presta a battere, non si è granché battuto la palla, passa al 9, il 9 contrastato da Pistilli prova a cercare il... ha fischiato... ha fischiato già la punizione al numero 7 e l'espulsione di Stefano. Siamo ancora con il possesso palla da parte dello 0-9 che cominciano a fare questo giro palla, ma il tiro del numero 8 viene blocchiato e deviato da Manuel lateralmente. Manuel serve Stefano, Stefano si riporta verso il centro, Garaccio li va incontro, lo prende palla, dopodiché Pistilli prende palla e... e sul passaggio a Massi, Massi subisce il fallo di rigore, si... abbiamo incaricato Valerio Pistilli alla battuta di rigore, c'è il giocatore numero 11 un po' troppo avanti, Pistilli tira a... parata, parata del portiere del 0-9. Riparte con un lancio sbagliato del portiere del 0-9, prende la palla, Massi, Massi dal centro, vede la porta, tira a... e... può centrare il portiere della palla con due mani. Riapre sulla sinistra il portiere del 0-9, sul numero 5, davanti a lui c'è Diego Caraccio, viene servito il numero 7, fermato fallosamente da Battistelli, e spulso Battistelli per non aver mantenuto la distanza, momentanea superiorità numerica che permette allo 0-9 di sfruttare, ma non sfrutta la superiorità numerica, prendono e vanno direttamente al tiro quando potevano giocare in maniera più agevole questa superiorità. ricomincia, ricomincia Manuel, Manuel Castiglia al centro per Massi, e Massi, e Massi, l'appoggia, l'appoggia in porta, bellissima. Risultato il parziale del 2-1, 2-1 Roma. Entra Giovagnoli e Riccardo. Riccardo Farinacci. Battuta, palla battuta a seguito del gol, allargato sul 7, passaggio sbagliato, e Massimo accompagna la verso Manuel. Manuel è alla ricerca di un compagno libero, si guarda a destra e a sinistra, vede solamente Diego qui in fondo, Diego, Riccardo, Riccardo qui in fondo. Riccardo viene fermato falsamente dal numero 2, cerca un compagno, vede Massimo, Massimo riprova la palomba, questa volta è alta. Latini, Latini, palla lunga direttamente sulle mani di Manuel. Latini, Latini, serve, serve, che al centro con Massi, gli sfugge la palla a Massi, peccato, peccato il bellissimo passaggio di Diego, di Diego Giussi. Ma è Diego? Si ritorna nel metà campo, giallorossa, con Manuel che allarga per il numero 5, carta, carta per Bistilli, Bistilli si avvicina, ma vede la porta, ma tira solamente al lato. Pecchiato, peccato, peccato c'era Massi, questa volta stranamente libero al centro, e ricomincia il giro, il giro palla, parte Bistilli che trova il tiro, ma il portiere la manda fuori. Rimessa dal fondo, l'ha incaricato Riccardo, Riccardo la passa a Giovanni, Giovanni cerca di superare l'avversario, ma c'è il pallo di Massimo che ridà la palla allo 0-9. Palla lunga, palla lunga del portiere 0-9, finisce così il primo dei quattro tempi, palla al portiere. 2-1, il risultato nazionale.